Le versioni meccaniche sono dotate di un impianto idraulico a centro aperto, da 48 a 56 litri al minuto, oltre ad una pompa indipendente per lo sterzo. Sono sempre disponibili due o tre distributori posteriori, comandati da leve singoli o a croce, fino a 5 V ventrali duplicate dal posteriore. Il sollevatore idraulico posteriore è a comando elettronico e offre una capacità di sollevamento di 2.600 kg nelle versioni V ed S e fino a 3.140 kg nella versione F. Il sollevatore è dotato di sistemi vibration damping, utile per la salvaguardia dell'impianto durante i trasferimenti con attrezzature portate. È disponibile un sollevatore anteriore con PTO 1000 giri, con la capacità di sollevamento di 1.500 kg. Grazie.